Ciao a tutti ragazzi, io sono MerloCraft, e oggi siamo qui nel secondo episodio del Survival Amplified Easy Gamer 1,2,3, non sappiamo come chiamare sta serie Questa, questi sono La, 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 la 1,2,3, Craft 1, 2, 3, Craft Basta, il nome è scelto 1,2,3, Craft Basta Vabbè Che cosa Il nome lo sceglieremo prossimamente Comunque, io stai, sì, io, basta, questa sarà solo sul mio canale, quindi iscrivetevi lo stesso al canale di Fasso Ma non vedete il video sul suo canale, però iscrivetevi lo stesso Era una minazza Iscrivetevi Ok, e tipo, andiamo in caverna e basta, presumo, perché non abbiamo più o meno altro da fare Qua c'è una caverna gigante Con 46 trilioni Dio Vieni qua, aiuto È molto Vieni, 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 vieni Aspetta, vengo, vengo, vengo Vieni, 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 vieni Eh, non riesco a dire, blocco di merda Dove sei? Qua Vieni a base che mi trovi Ok, eccoti, eccoti, eccoti What? Quante frecci hai? Sì, sei da Eh, guarda Vieni qua Guarda, i mob che ci sono qua Guarda, qua sotto Ah, lei, dai, ci sta Mo, un Dimmobs Guarda Oh No No Cato, ma sono spawnato in quel posto di perda Ho tutto, tutto C'era una cesta calda C'era, 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 c'era la bonus cesta Ah, non l'abbiamo presa No Vado a prendere E prendila Eh, ma che È su il culo Non è che va a far culo E forse era meglio facci un letto Sì, era molto meglio facci un letto Vabbè, tanto questa parte la tagli Tipati Eh, infatti, mamma, mi tipo lo stesso E ce l'hai, ce l'hai tra le mie robe? Non so quante robe avevi Quindi ti vero un po' Avevo le belle robe in ferro What? Las fare il piccolo alla fine Poi non avevo quasi niente Non tanto Ok Le torce Tienetene un po' Ah, giusto Quante ne avevi? Eh, avevo uno stack Ma tienetene tipo a metà Come uno stack? Io non solo Ne avevo solo 44 No Vabbè, sono tipo Forse sono là sotto Ah, so se sono esplosso Vabbè, ok Non è vero, abbiamo perso Le torce First death, bitch No Infatti, dai, è solo la prima kiss Ma sì Sai quante volte che faremo in questa serie? Molte Ma questo non sono dettagli Eh, adesso dobbiamo andare in giù Cercare ferro Io ce l'ho già un po' di ferro qua Nice Sta caverna continua È lunga No, ok, finisce qua No, è finita È una caverna molto lunga Oh, c'è del ferro Buono Buono Io prendo dei core Due Io ne ho tre Buono Eeeh A sto punto direi di andare qua sopra Tipo qui Ok Che hai, basta colpa E poi faccio un digestione Esatto Anche io non sto proprio prendendo Tanto C'è quando ci serve Andremo a prendercelo Oh, qua c'è l'ava Dove è che stai Senta Eeeh Qua sopra Di qui no Sai il lato di qui mi sa Yes 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 Eeeh 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 Qua c'è l'ava L'ho tappata Buono Tanto ci cazzo dentro lo stesso C'è l'è tantissimo Occhio che va lì Ovviamente Salta salta Torno qua sopra Che se crepe Poi almeno la roba Due Quante quali hai Mezzo Addio Ha tratto la bonus cesto La caccia V Buono Tre mele Un'ascia E un piccone Wow Buono Non sei buona Ok Come potete vedere Che sono tornato a piedi Eeeh Eeeh Mi dai le cose Di nuovo Thanks Non so quale robe avevi Quindi ti rompi Ah Qua c'è altre cose Ah ma qua si esce Qua si esce E che è cagata No qua si continua Continua Uh è grande Qui poi di merda Esplodi Grazie Io sto facendo tipo la modalità per salire Io sto esplorando qua un po' sotto Qua si esce No Non c'ho fatto Creeper Nice Qua finisce Ah io lo prenderò un po' Poi posso Sì Da non te che ho 14 livelli Io ho uno Perché sono appena crepato Tu ti sei preso anche i miei Quindi Quanti ne avevi? Boh Ma quando il craft interviene Metà te li lascia Boh Ma stai grande Fanno tutte cagare Finiscono subito E vatti che L'ho già guardata Finisce subito A sto punto io direi Oddio Che Oh Che posso Io direi a sto punto di tornare tipo alla base E fare una miniera a scavarla proprio noi da lì A sto punto Sì ci conviene Ecco è qua attaccata Una perla di saggezza Oddio ai cuori Ok vale Base Io sto arrivando da Dalla caverna Cioè Pro kill Per uccidere uno scheletro Cioè Tutti 50 like per questa pro kill Ok ci siamo Guarda come si fa A grillare gente Guarda Vedi Ho entrato Vai io vado a tipo A cominciare a scavare Non l'avevo buffata comunque No 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 Quanta roba abbiamo Allora Ok Allora andiamo giù di qua It's a cave It's a cave Allora Io mi butto Poi ti faccio la Ti faccio la scaletta Da qua Thanks Ho quasi finito le torce Io Anch'io Ho buttato ferro Oh ferro Anch'io E ho anche del Oh dio qua c'è un botto di ferro Sì Sì Io ne ho E tanto tipo Sateotto Io ne ho Tanto Ok Ok Che fai Ok ok Ci servono i diamond Vai Ci convene Che ne è questo Così possiamo fare le torce Aspetta ne faccio un po' Che io Io ne ho Ne faccio tipo 6 6 per 4 Ok Ok no 24 No Staccate Buono Alto ferro Sento acqua Boh C'è più niente Io Io continuo a scavare In questo punto Io sto facendo tipo Un buco qua Se vai avanti Tipo dopo che c'era il ferro Trovi la scaletta Eh ma Vera Continuo dritta io Ah ok Giusto Sento lava Sento acqua Oh sai cosa dobbiamo farci Un sec Eh Va bene Abbiamo tutto Ah no Non si chiama 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 Ah no Non si chiama Non si chiama Se fossimo stati In un altro Avevamo una Che Beh Quel mondo Lì ormai No in realtà C'abbiamo ancora Salvataggio Però la gente Non viene mai Quindi Ho trovato Ho trovato Un buco Redstone E Vieni Eh Allora Ci convene Venire di Tipo perché Di quanto Mi sa che è quasi finita La camera Mi sa che è finita C'è solo Redstone Vai E io Possiamo scavare Più Vengo di qui A questo punto Ok Io sto cercando di Tappare sta qua Di merda Mi viene 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 Odio 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 Ci sono Ok Ti ho chiuso l'acqua No 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 Passo è morto No 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 Ah C'è tutto C'è tutto C'è quasi tutto Sì sì Vieni Quando si va avanti Ok ci sono Dopo Dobbiamo farci un letto Solitamente Perché sennò Sto' sei Due Troppo Ti sto vedendo La gara Come un cane Ma tu non hai idea Anche Non so quante robe avevi Quindi ti sto Tipo riputando No Il piccone In tipo Storno Mi servirà bene Anche a me E hai un altro Basta 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 Tutte le cose Il ferro ce l'ho Mi so che ce l'ho tutto io Perché ne ho venti Sì sì Te lo dà tutto te C'è del gold qua Che dovresti prendere tu Prendo Perché quando torni al suo Ti faccio un piccone Anche a te Grazie Il problema è che adesso Non so da quanto Stiamo registrando Come non sai da quanto Stiamo registrando Eh perché ho registrato Tutto di fila Quindi mi segnala Diamanti 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 Oh Oh E tipo Guarda il tempo Guarda il tempo C'è una lava di merda Eh adesso stiamo registrando Da 29 minuti Però E quindi Ho compreso il primo episodio Quindi il primo era tipo Da 17 o 21 Quanto era il primo Ma dietro sta coppia Non c'è lava Scendi Scendi Da dove c'è l'acqua Eh aspetta che c'è qua Anche un po' di roba da penne Guarda se c'è Guarda se c'è lava sotto No Stavo cadendo nella lava Totalmente Mi sa che non c'è lava sotto Su e te Uh possiamo facci un piccone almeno Perché sono 4 4 Mi sa che sono 4 Dov'è che stai E qua sotto L'ho cost'acqua Sì mi sa che sono 4 Beh l'importante è che ce ne sono un po' 1 1 2 3 4 Aspetta Adesso Voglio l'achievement che nessuno prende mai Aspetta Guarda Sei brutto Perchè non mi ha dato un'achievement No Non è giusto Ah si me l'ha dato Diamonds to you Tipo Archivement inutile Ok Interessante Aspetta dammi Fammi una crafting table Adesso Ed è di sic Ed è di sic Dov'ult'ami Thanks A questo punto io quasi torno a casa Almeno per appoggiare i diamanti Perchè ho troppa paura di perdere Eh si Beh tanto a stare dritta Eh si Cioè ci sono le torce che si capisce abbastanza Quindi Non dovresti avere problemi Tu vieni di qua Poi di qua Ok abbiamo Sono alla base Faccio una cesta apposta per E infatti Ci dobbiamo Ok ho fatto anch'io gli utensili In ferro Lo cuoco E ne serve Così Credo Ok GG Ok Prendiamo Crafting e fornace Io sono qua La base Poi Non so E Torniamo in caverno Facciamo qualcos'altro Eh non so Qua c'era ancora un po' di Di cose C'è ferro Qua c'è un'altra caverno Aspetta C'è ferro Qua ce n'è una Abbastanza grande Che io Tipo stavo esplorando È un canyon qua Aspetta Oh Allora aspetta che ti raggiungo Questo in teoria dovrebbe essere un canyon Sì è una È una ravince E aspetta Ok Chiudo sta qua di me No non ho fatto un secchio Finché ero a casa Vabbè Se vuole possiamo Gaftare Oh merro Eh ma hai lingotti Cotto Eh ne ho uno però Possiamo cuocere Hai la formace No ho detto una cagata Perché non ho core Quindi Eh ce l'ho io To Metto La giornata La giornata Vabbè easy Ho messo una formace Tieni il ferro qua Ne servono anche solo due Perché tipo Oh Un altro ce l'ho io Nel basso uno della vita No Passa Passami il link Thank you Nulla Abbiamo un bucket Prendo l'acqua e dir sì Oh merro C'era la lava Non l'ho visto Oh merro Diamonds XD Oh 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 Ce l'hai il piccolo di fango? Che culo Sì sì C'era la La lava ti voglio No perché hai tolto l'acqua No no Mettive la Mettive l'acqua qua Eh eh La 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 Quaco qua Eh dobbiamo andare ciò Trovo una sorgente Non l'ho presa Questa parte a più Ah buon Mmm Dove cani essa sorgente Tutta ne Guarda dove cazzo L'ho messo la sorgente Ma va qualcuno C'è una cazzo Di sorgente Di merda Mmm Arrivo subito Il trip Per l'acqua Allora Aspetta Forse ce l'ho Qua Qua ci potrebbe Ok ce l'ho io Ce l'ho anch'io Oh Sì io C'è un caldo Dove sono andato Dove ho prenderla io Quanti diamanti c'erano Due erano pochi però Due Beh abbiamo Ne abbiamo abbastanza Per farci due piccoli Io ho visto Che tipo c'era Che parte C'era un Ah qua c'erano i lapis Eccoli qua Ah gg Prendeli che E' di enchant E io intanto Continuo tipo In quella direzione La Beh E qua Ah bisogna prendere Anche sta roba E poi la penna Mi deve ricordare Non sa che comunque Abbiamo Quasi finito il tempo Perché sto registrando Aspetta Mi faccio un po' di calcoli E quindi ragazzi Per questo episodio E' tutto Noi abbiamo intanto Preso un po' di Diamond Quindi io vi ricordo Che questo è il secondo episodio Il primo è andato in onda Su tutti i due canali E il terzo andrà in onda Soltanto sul canale Dei treppi Uno Che fa E cosa Vi lascerò il link Comunque in descrizione Se mi ricordo Cosa che non farò mai Ma vabbè Mentre la c'è No vabbè La tua descrizione è vecchia Sì la mia descrizione Devo modificarla Prima o poi Però vabbè Andiamo in onda Per questo episodio E' tutto Vi ringrazio per la visione Vi rimando il prossimo video Che caricherò E ciao ragazzi